Mettere in sicurezza la sponda di via Milazzo, rimuovere i tronchi ammassati sulle pile dei ponti e procedere alla manutenzione dell'alvio del fiume. Sarà un autunno molto intenso per l'amministrazione comunale di Pavia, alle prese con i diversi problemi che da tempo affliggono il Ticino nel suo tratto urbano. Temi molto chiari anche a Roberto Rizzardi, che ha da poco ricevuto dal sindaco Lissia le deleghe alla protezione civile. Sicuramente come protezione civile, ricordando i cinque anni dell'amministrazione De Paoli, vorremmo riproporre la valutazione dell'ingombro degli alberi in alveo, per esempio subito a monte del Ponte Vecchio, perché sono una situazione di pericolo in caso di piena, perché fermano tutte le cataste di legna e quindi andrebbe valutato come sia possibile rimuoverli, lasciando ovviamente il ceppo, perché quello è un obbligo di legge. All'epoca avevamo anche interpellato il corpo forestale e ci aveva dato anche l'autorizzazione insieme al parco del Ticino. Nelle scorse settimane Regione Lombardia ha dato inoltre il via libera alle modifiche proposte da Palazzo Mezza Barba rispetto al progetto Waterfront. Grazie ai 15 milioni di euro stanziati, il sindaco Lissia intende infatti acquistare e riqualificare l'idroscalo, abbandonato da anni, e valorizzare l'asta sinistra del fiume. Importante, ha quindi ricordato Rizzardi, anche l'attivazione del tavolo permanente, chiesto dalle associazioni remiere di Pavia. Legandolo di più alle reali esigenze della città e non a questo progetto un pochettino fantasioso e poi ovviamente era stato già annunciato dall'assessore competente che sarebbe stato istituito quel tavolo che veniva continuamente richiesto insieme alle associazioni per valutare proposte e investimenti per il recupero delle rive e dell'attività sul fiume. Via Attesa, come detto, anche per i lavori di consolidamento della sponda in via Milazzo, preannunciati da Aipo, lo scorso inverno dopo un sopralluogo. In fase avanzata invece il cantiere per gli interventi di messa in sicurezza della riva, in prossimità del ponte della ferrovia. Lavori questi ultimi di competenza di RFI. Allora, poi c'è chiaramente anche l'altro protagonista principale, Aipo, che stiamo aspettando l'intervento su via Milazzo e poi c'è anche le ferrovie RFI che stanno completando il lavoro in prossimità subito a monte e subito a valle del ponte delle ferrovie che è di proprietà loro e l'intervento spetta loro in collaborazione con Parco del Ticino e anche con Aipo per il ripristino della riva. Non mi sono ancora recato in posto a verificare l'andamento dei lavori ma me ne stanno parlando come un'opera importante.